La terza stagione di questo spettacolo al Teatro di Rifredi, La Bastarda di Istanbul, tratta di un argomento ancora oggi, se vogliamo, molto attuale in Turchia. È la saga di due famiglie molto numerose, una storia complicata. Questa storia complicata inevitabilmente tocca anche argomenti molto gravi, come quello della persecuzione degli armeni, ma anche come la violenza, la violenza sessuale, l'incesto, tante cose. Quindi c'è da ridere e da piangere, come in opere che sono dense e diciamo che raccontano tante cose complesse. Ecco, il suo personaggio nello specifico? Il mio personaggio è quello della zia Banu, una delle zie, perché noi parliamo di quella famiglia turca, la famiglia Kazanje, dove ci sono quattro sorelle e un fratello. È un personaggio che ha la sua estravaganza, quindi è un po' sopra le righe, quindi è sempre divertente interpretare personaggi di quel tipo. Come si vive adesso a Istanbul? Che quello che si vive è un bruttissimo momento sia per la Turchia che per il mondo e non c'è bisogno di essere né veggente né di viverci o né di guardare tutti. Vediamo che le cose vanno molto male. Ecco, punto. Senti, arriviamo all'ultimo scelto. Tra poco al cinema, questo suo rapporto ormai fraterno con il regista Ferza Nodpete, che ricordiamo è diventata un po' un'icona. Lei fa parte ormai da anni, è la protagonista di tutti i suoi film. Com'è nato questo rapporto? E soprattutto, ora, tra pochi giorni, Rosso Istanbul, che è un altro grande film, con un'altra grande trama. Quindi, a pochi giorni dall'uscita, parliamo anche un attimo di questo film. Certo, con Fersan ci siamo conosciuti nel 97 in Francia e quindi abbiamo lavorato per la prima volta in Narem Suare e poi siamo andati avanti. Essere la musa di un regista è una grande parola, diciamo. Quindi, io mi difido sempre di queste definizioni che possono essere molto, possono diventare anche una gabbia. Quindi, sì, è vero che noi ci piace collaborare insieme. E questo film è un film che viene girato interamente a Istanbul. Quindi, per me, una delle protagoniste del film è Istanbul, è la città. Ed è girato con attori turchi, molto bravi tutti. E tutto ciò che auguro, che piaccia al pubblico italiano. Ormai Fiorentina d'adozione, ha passato molto tempo qua, che rapporto con Firenze? È legata alla nostra città? Ma io a Firenze ci sono legata ben prima dal teatro perché c'ho cosiddetta una mia famiglia d'adozione e quindi i miei legami con Firenze risalgono a quasi 50 anni. Ciò che quindi non ho aspettato di recitare a Rifreddi per avere un legame con Firenze. Anzi, forse allora è stata riportata all'appendice. Assolutamente. Allora, io ho finito di togliere il tempo prezioso, so che lei a breve sarà di nuovo sul palco. La ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha dedicato e inviso tutti a vedere La Bastarda di Istanbul al Teatro di Rifreddi fino al 5 di marzo. Grazie mille, davvero. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.